Maggiore attenzione alla sicurezza, all'alimentazione, al benessere generale dei bambini degli asili. La Regione Emilia Romagna emana una nuova direttiva che anche per Piacenza si traduce in fondi dedicati alle strutture che accolgono i bambini dagli zero ai tre anni. Gli ambienti e gli arredi e tutto ciò che riguarda le strutture fisiche destinate ad accogliere i piccoli ma anche l'organizzazione dei servizi educativi sono al centro della delibera approvata dalla Commissione che si appresta a passare il voto della giunta a fine mese. L'attenzione è stata posta in particolare sull'organizzazione del lavoro delle educatrici per evitare che carichi e stress vadano a causare situazioni di sofferenza con maltrattamenti o carenze nella cura. A partire dalla formazione del personale che dovrà essere costituito da educatori in possesso dei requisiti psicofisici e anche di una laurea all'organizzazione del lavoro in modo collettivo e coordinato fino all' orientamento del coordinamento pedagogico territoriale. Così si snodano i passi significativi del percorso degli educatori che sono chiamati a seguire i bambini e a segnalare tempestivamente qualsiasi caso di disagio da questi manifestato con la possibilità di ricorrere a personale specializzato in accordo con le asle territoriali qualora se ne presentasse la necessità. Confermato il rapporto numerico tra personale e bambini 1 a 5 per i più piccoli dai 3 ai 12 mesi massimo un educatore fino a 7 bambini fino ai 36 mesi nel tempo pieno e 1 a 8 nel tempo parziale un educatore a 10 tra i 24 e 36 mesi. Le classi potranno essere composte raggruppando i bambini per età ma libertà è data agli asili di decidere invece di scegliere per esempio gruppi composti da bambini di età diverse in modo da favorire un diverso scambio. Per quanto riguarda le strutture saranno allestite a seconda dei bisogni degli ospiti ossia organizzate in base in particolare al numero dei bambini e all'età. Anche l'alimentazione è un capitolo trattato dalla direttiva che indica la necessità di attrezzare cucine interne agli asili. Flessibilità è lasciata per decidere sugli orari di accoglienza in una finestra che va dalle 7 alle 19 e 30 e che è variabile anche per i periodi festivi e per l'estate. Per tutta la regione i fondi a disposizione saranno oltre 7 milioni di euro per il 2017, per la provincia di Piacenza circa 304 mila euro, fondi che verranno erogati da regione direttamente ai comuni e di seguito alle strutture in base al numero dei bambini frequentanti.